Per prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto per la politica Italia, è morto un famoso ex deputato di Forza Italia, ne ha fatto parte per oltre sette anni. È morto a 80 anni Simone Di Cagno a Brescia, sindaco di Bari dal 1995 al 2004, ed ex deputato per Forza Italia per due legislature, dal 2006 al 2013. Tanti i messaggi di Cordoglio, come quello di Forza Italia che esprime oggi profondo e sincero Cordoglio per la scomparsa di Simeone Di Cagno a Brescia e si stringe affettuosamente alla sua famiglia. Forza Italia ricorda soprattutto che grazie alle sue qualità umane straordinarie e per i risultati raggiunti da imprenditore e nelle tante e importanti cariche pubbliche rivestite. Lascerà un segno indelebile nella memoria di tutti, soprattutto nel cuore dei baresi. Anche il sindaco Antonio De Caro si esprime sulla scomparsa dell'ex sindaco. La camera ardente sarà allestita e sarà accessibile da venerdì pomeriggio in municipio a Bari. Potrà essere visitata da tutti che vorranno portare l'ultimo saluto all'ex sindaco. I funerali invece si svolgeranno lunedì alle 10.30 nella Basilica di San Nicola.